Come fare soldi subito. Questo è l'argomento più richiesto. È comprensibile. È un argomento di grande attualità come deve essere. Ci sono ottime possibilità per fare soldi. Non c'è bisogno che ti spieghi perché ti servono i soldi. La buona notizia è che fare soldi oggi, nel ventunesimo secolo e guardando in avanti è veramente una cosa possibile, necessaria e persino richiesta. I mercati crescono sia perché c'è più popolazione, quindi ci sono più clienti, sia perché ci sono più prodotti e c'è bisogno di più servizi, quindi più persone, più mercati, più prodotti, più servizi e per chi coglie queste opportunità più lavoro e anche più soldi. Occorre inventare nuovi prodotti e nuovi servizi e occorre rinnovare i settori esistenti. Sono mercati enormi. Quindi semplicemente il fatto di servire come stiamo servendo oggi le persone che ci sono e che sono in aumento crea un'ottima prospettiva per fare soldi. In più considera il progresso, la tecnologia che cambia di anno in anno, quindi ci saranno anche nuovi prodotti, nuovi servizi, nuovi corsi per addestrare il personale, per addestrare il pubblico. Tu capisci che c'è una grandissima opportunità per fare soldi. Io lavoro nella pubblicità e nel marketing dal 1980. Nel 2020 saranno 40 anni vissuti sul campo in cui ho visto tanto. Dalla colla KAU all'intelligenza artificiale della chatbot. La colla KAU per chi è giovane è qualche cosa di misterioso. Che cos'è? È una colla. Era semplicemente una colla che si usava in pubblicità perché consentiva di staccare e riattaccare le cose incollate senza danneggiare la carta. Oggi si fa il copia e incolla. Io ho visto quando si lavorava così con le forbici, si tagliava il cartoncino, si incollavano i pezzi di carta sopra il layout e poi ho visto come tutte queste cose sono cambiate. Sono arrivati i computer. Arrivò il programma Ventura per l'impaginazione rigorosamente in bianco e nero perché pensare a uno schermo preciso a colori sembrava impossibile. Poi sono arrivati gli schermi a colori, sono arrivate le tecniche elaborate e è cambiato anche il modo di contattare il pubblico. C'è internet. Adesso c'è l'intelligenza artificiale che parla per conto dell'azienda direttamente al pubblico. Sono le chatbot. Tu capisci che in 40 anni ho visto veramente tante cose. Molte cose sono rimaste uguali. Altre sono cambiate. Poco o tanto dipende dai casi. Alcune sono scomparse. Altre sono arrivate e hanno preso il comando. Internet tanto per dirne una. Il pubblico. Grosso modo dal punto di vista dell'attenzione dei bisogni grosso modo è quello. Anche se il pubblico di oggi è molto più sveglio anche perché grazie a internet può fare dei confronti velocemente e allora sa dove comprare, sa informarsi e questo cambia il modo di vendere. Bisogna sapersi orientare e trovare il percorso diretto che ti porta al tuo obiettivo. Quindi se vuoi fare soldi subito puoi e devi essere capace di trovare la tua strada perché come tu hai voglia di fare tanti soldi subito ci sono altre persone determinate pronte a fare la tua stessa cosa. In questo io posso aiutarti. Perciò ho ideato questo seminario online dedicato a come fare soldi subito. Un seminario online. Cioè ti spiego, ti insegno via internet come puoi orientarti per iniziare la tua attività per fare soldi. Questo è un seminario particolare. è online, è a pagamento ed è rimborsato al 100%. Magari ti stai domandando come è a pagamento ed è rimborsato. Esatto, te lo spiego. È semplice. Ci sono appena tre semplici passaggi. Allora il primo passaggio è questo. Appena ti iscrivi trovi nella tua area riservata un video, un audio e un pdf per inquadrare l'argomento e per iniziare a studiarlo. Cioè appena ti iscrivi ti metto subito al lavoro per capire come fare soldi subito. Ti faccio un video dove ti spiego quali sono le basi essenziali della mentalità vincente. Quando tu hai quelle basi sei orientato verso la realizzazione del tuo obiettivo. questo è il passaggio 1. Ti iscrivi. Passaggio 2. Ci troviamo online in una delle date indicate qui sotto. In diretta mi poni tutte le domande che vuoi a proposito di questo argomento e io ti rispondo subito. Riceverai la registrazione audio di questo incontro. Quindi facciamo una bella videoconferenza dove tu entri, fai le tue domande e io ti rispondo. Ovviamente questo è il passaggio 2. Quindi prima hai studiato il corso, ti sei chiarito le idee oppure hai già iniziato la tua esperienza per fare soldi subito e vuoi sapere da me qualche indicazione pratica per arrivare prima e meglio al tuo obiettivo. Perfetto. Il passaggio 2 è proprio questo. Ci vediamo online e io ti chiarisco tutti questi punti. E poi, molto importante, il passaggio 3. L'intero costo dell'iscrizione a questo seminario ti verrà rimborsato al 100% sull'acquisto del mio corso come trovare clienti o se ce l'hai già sul tuo prossimo consulto con me. Quindi questo corso adesso tu lo paghi e poi ti viene rimborsato o sul corso complementare come trovare clienti o se ce l'hai già sul prossimo consulto che farai con me. Quindi questo corso che ti insegna come orientarti alla fine non ti costa nulla. Magari ti domandi ma allora perché lo fai pagare? Te lo spiego subito. L'argomento è il più richiesto. Servono metodo e buona volontà. Ci sono tanti per di tempo che vanno in giro su internet sperando di trovare qualche cosa di gratis ma poi non hanno voglia di fare niente. Quindi se c'è un prezzo io filtro le persone. Chi paga vuol dire che vuole metterci impegno e allora volentieri ti passo quanto so. Mi rivolgo a persone motivate che vogliono continuare quindi non è una bizzarria. Ecco perché rimborso al 100% il costo dell'iscrizione. Questo è il motivo. Semplicemente è per vedere chi è veramente motivato e chi invece sta perdendo tempo e io non voglio perdere il mio tempo perché lo voglio dedicare alle persone motivate. I contenuti ci sono. Sono ottimi e già questo giustifica pienamente l'investimento. Non avere dubbi sul fatto che io ti possa insegnare qualche cosa di molto valido. Qualche cosa che è globale perché inquadra tutti gli argomenti partendo dal più importante. Cioè da te, dalla tua impostazione mentale. Perché ti serve quello. Ti serve l'impostazione mentale per riuscire a reggere il confronto con tutte le sfide che incontri quando decidi di fare soldi. In più, per chi vuole approfondire, ci sono i miei corsi e i miei consulti. Quindi posso farti un discorso ampio sia sulla motivazione sia sulla parte di marketing. Perché, te l'ho detto, ho 40 anni di esperienza e ho visto cambiare tutto il settore e al tempo stesso ho visto anche quali sono le costanti che effettivamente vanno sempre tenute in considerazione. Partiamo. Dunque, iscriviti adesso e inizia subito con la mentalità vincente. Qui sotto c'è il pulsante con la data che corrisponde alla giornata che ritieni più opportuna per partecipare a questa iniziativa. Appena ti iscrivi accedi alla tua area riservata dove trovi un video, un audio, un pdf. Poi ci vediamo online e avrai modo di parlare direttamente con me, mi farai le domande, io ti risponderò in diretta e infine ti rimborso al 100% l'investimento che fai per questo consulto. È un'occasione magnifica. Approfittane perché ovviamente i posti sono limitati perché non posso seguire tutti. Chi prima arriva si garantisce la partecipazione a questo seminario. Perciò, datti da fare, partiamo subito. Grazie.